Buona giornata amici e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è venerdì 23 giugno 2023 e noi siamo pronti alla lettura dei giornali questa mattina a partire dall'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi. Oggi è San Lanfranco Beccari, probabilmente la famiglia era Beccaria, però insomma la chiamano così Beccari. Visse nel XII secolo a Pavia, nasce da una nobile famiglia, scelta la carriera ecclesiastica, fu vescovo della sua città, fu una figura carismatica, a lui si attribuiscono anche molti miracoli, fu amabile con i buoni e poi caritatevole, pio ma energico con coloro che si schierarono contro la Chiesa, quindi un vescovo che seppe mantenere le redini del suo apostolato. Questo è San Lanfranco Beccari. Vediamo le previsioni del tempo come tutti i giorni. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, una intensificazione poi in serata. I venti saranno moderati, il mare è poco mosso, le temperature si aggirano tra i 21 e i 30 gradi, ma vediamo se queste previsioni vengono confermate da Marco dei Bagnialda, il nostro bagnino che ci tiene compagnia per tutta questa settimana. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sta cambiando il tempo, insomma, si vede qualche nuvoletta? È molto velato ed è abbastanza scurito verso nord. Beh, questa mattina comunque si respira un pochino, anche se il caldo rimane. Ieri abbiamo superato abbondantemente i 30 gradi. Insomma, l'Affa si fa sentire. Senti, sui giornali questa mattina si parla diffusamente della qualità dell'acqua. Il Comune di Fano ha avuto la necessità di vietare la balneazione in quattro punti del litorale a causa delle piogge che poi hanno riversato molto fango in mare. A Ponte Sasso com'è la situazione? Da noi fortunatamente questi problemi non ci sono mai stati. Anzi, diverse persone mi hanno chiamato per sapere se si poteva fare il bagno, ma è tutto quanto tranquillo. Tant'è che abbiamo qui in spiaggia da noi uno dei ragazzi che analizza le acque e dal giorno 17 di maggio era tutto quanto preciso ed era balneabile l'acqua. Quindi il rio Crinaccio si è mantenuto sui limiti, insomma, non ha causato problemi. Sì, diciamo sì. No, insomma, diciamo ecco, per quanto riguarda la peralitabilità, no. Per quanto riguarda il resto, un po' di problemi ce li crea ogni tanto. Comunque è importante la vostra segnalazione con la bandiera rossa. La bandiera rossa è un segnale veramente che i bagnanti devono tenere in grande considerazione. Purtroppo spesso non è così. E voi come vi regolate con quelli che magari fanno il bagno allo stesso quando non sarebbe il caso? Eh, gli diciamo di rimanere sempre a riva, gli chiediamo di non allontanarsi. Se mi dice sempre l'eroe che parte, che vuole arrivare fino alle scogliere, ma gli fischiamo, facciamo tornare indietro, anche per non creare che tutti partono e vanno a fare il bagno all'arco, ecco. Il mare non è un gioco. Oggi è bandiera bianca o bandiera rossa? Per ora è bandiera bianca. Poi dopo nel pomeriggio dovrebbe essere temporale verso le 5, e perciò poi dopo cominciamo un attimino a regolarci. Benissimo. Vedremo come si evolve la giornata. Noi comunque ci sentiremo domani e ne parleremo ancora. Grazie Marco, buon lavoro e buona giornata. Grazie mille. Buona giornata a tutti. Bene. Apriamo i giornali. Questa mattina abbiamo il resto del Carlino, scusate, con un articolo che riguarda un fatto di cronaca. Picchiata e ricattata col sesso, una ragazza accusa un giocatore di Fano. Si tratta di una 32enne che ha conosciuto questo giocatore in treno mentre andavano ambedue a Napoli. Ma una volta in hotel lei racconta veramente di aver vissuto un incubo. Segregata, mi ha detto dammi 300 euro di fondo i tuoi video a luci rosse. Ebbene, contro questo giocatore si tratta di un giocatore di origine africana, Yaya Sou, di 24 anni, originario della Guinea, che è stato anche tesserato del Fano per un certo periodo e si è anche allenato con i giocatori Granata. L'uomo è stato fermato a Rimini dalla polizia ferroviaria. Su di lui pendono accuse gravissime, dal sequestro di persona al tentativo di estorsione, fino al cosiddetto revenge porn, ovvero quel ricatto che si fa nei confronti di altre persone delle quali magari si pretendono prestazioni sessuali o altro e altrimenti si pubblicano sui social video particolari e via dicendo. A sporgere Querela, nel primo caso, è stato un amico del calciatore che sostiene di essere stato da lui minacciato per ottenere la restituzione di 30 euro. Ci sono due casi. Uno che riguarda questa denuncia e quell'altro invece che riguarda la denuncia prestata da questa ragazza. Si tratta di una ragazza straniera con cui il calciatore ha trascorso il fine settimana nel capoluogo partenopeo. La ragazza sostiene che il giovane l'avrebbe segregata nella camera di un hotel di Napoli impedendole con la forza di uscire. E' arrivando persino a picchiarla con pugni e schiaffi al volto oltre a strapparle i vestiti. Il calciatore, afferma la ragazza, le avrebbe anche confiscato lo smartphone rifiutandosi di restituirglielo e anzi minacciandola di diffondere sul web dei video a sfondo erotico. Ecco perché appunto l'uomo è stato fermato dalla polizia e ora dovrà rispondere di queste accuse. Ed ora parliamo di quello che abbiamo prima annunciato con il dialogo, il nostro rapporto con Marco dei Bagni Alda. Divieti finiti sotto il litorale torna la balneabilità. Il mare fanese torna balneabile lungo tutta la costa. Il comune fa sapere che non ci sono più i divieti di balneazione a sud della foce del Metauro. Nel tratto a 150 metri nord nel sottopasso di Gimarra vicino ai bagni Crida e alla spiaggia dei Fiori nel tratto di acqua a 30 metri a nord dell'Arzilla che insiste sui bagni Arzilla ed infine sempre all'Arzilla nella zona che si estende dalla spiaggia dei Talenti fino alla spiaggia dei Cani. Ebbene questa era la zona che era stata interessata da una presenza di fango, di melma che era affluita in mare e appunto dal torrente a causa delle piogge dei giorni scorsi. C'era una presenza di batteri superiore a quello che era previsto. Ed ora una notizia di politica. Ci sono ripercussioni alle dichiarazioni fatte da Samuele Mascarin che aveva invocato le primarie del centro-sinistra. Il resto del calino, così come il Corriere Adriatico, sonda un po' i partiti per sapere se accetteranno questa proposta di Samuele Mascarin e vediamo che il centro-sinistra nicchia. Ci sono delle posizioni contrastanti. Occhio alle primarie. Possono fare danni. Lo ha dichiarato il sindaco Massimo Seri. Vanno bene solo per coalizioni coese, unite, solidali. In realtà il centro-sinistra ancora qualche differenza lo evidenzia. Anzi, possiamo dire anche qualche più di una differenza. E quindi in questo caso le primarie potrebbero far peggiorare la situazione. Brunorio Lucarelli, due candidati del centro-sinistra per la posizione di sindaco, sono entrambi bravi, ha detto l'attuale primo cittadino Massimo Seri. Io li appoggerò. Ultimo anno sarà senza sorprese. Le primarie dunque rischiano di essere nocive se la coalizione non è coesa. Così la pensa il sindaco Massimo Seri che mercoledì sera ha chiamato raccolta la sua maggioranza, invitandola a non dividersi più, come è accaduto nelle ultime sedute del Consiglio Comunale, quando si è parlato di interquartieri, quando si è parlato di tante altre cose, come per esempio l'impianto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che avrebbe dovuto realizzarsi prima nel Fanese e poi nell'entroterra. Insomma, la sorte di ASEZPA. Ci sono differenze tra appunto il centro-sinistra. Ed ora parliamo di Festival Passaggi. Questo grande festival che sta coinvolgendo in toto la città di Fano in diversi punti del centro storico della zona mare. Ieri sera c'è stata l'inaugurazione ufficiale, il giorno prima c'era stata l'anteprima e in tutti i punti c'era il pieno di gente. C'era il pieno Il Pincio, nel Chiostro delle Benedettine, in Piazza 20 Settembre, nella Chiesa di San Francesco, nelle altre zone dove si sono svolte gli incontri. Bene, il focus che fa oggi il resto del Carlino è su Piazza 20 Settembre, dove è stato presentato il libro scritto da Lucia Annunziata. Lucia Annunziata ha ricevuto anche il premio Barbato per appunto la sua attività giornalistica. Ebbene, Barbato, grande guida, lei lo ha conosciuto, ha detto quando era giovane. Barbato è stato un grande maestro di giornalismo, ha dichiarato. Un uomo che non si eccitava mai, manteneva sempre la sua calma, la sua ragionevolezza, anche nei dibattiti, riusciva sempre a mantenere un equilibrio anche dal punto di vista emozionale. I giovani invece sono più scalpitanti, sono più vivaci. Andrea Barbato l'ho conosciuto quando era un grande guru del giornalismo, ha detto l'Annunziata. Amava i giovani, lo divertivano. Noi eravamo agitati, lui era sempre calmo. Ed è nutrito anche il programma di questa sera del Festival Passaggi. Ci sono veramente tanti personaggi di spicco che parleranno delle loro opere. Questa sera ci sarà per esempio il presidente della TIM, già direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, e poi a Narita Briganti, che ci farà conoscere Gae Aulenti, la grande architetto. Alle 21 Stefano Zuffi, autore del libro Il racconto dell'arte italiana da Bernini a Canova, sarà presente nel Chiostro delle Benedettine. E poi alle 21 Mario Giordano, il giornalista delle polemiche, il giornalista del televisivo, che tiene una nota rubrica settimanale, presenterà il suo libro Maledette Iene. Ci sarà poi a San Francesco Samuele Canestrari, che presenterà il suo ultimo libro, Urlare dalla morte con la testa nel cuscino. Nando della Chiesa, che converserà con Gigliola Cinguetti sul suo ultimo libro, Manuale Controcorrente di Educazione Civica. Insomma, ci sono veramente tanti, tanti personaggi che parleranno di attualità, parleranno di temi di cultura, d'arte, e attireranno, come è accaduto ieri, ieri sera, sperando nel bel tempo, sperando che la pioggia non rovini il tutto, tantissima, tantissima gente. Giriamo la pagina e siamo a Terre Roveresche. E qui vediamo il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, che mostra una casa degradata. Lotta al degrado, obbligo di intervento per i privati. Il sindaco ha emesso un'ordinanza che dovrebbe costringere i privati a dare dignità alle loro abitazioni. Se i privati non intervengono, interverrà il Comune e poi si rifarrà con le tasse, con appunto dei soldi che richiederà in maniera forzosa ai cittadini per recuperare quanto il Comune avrà speso per restaurare le facciate. Bella anche questo articolo che riguarda sempre Terre Roveresche. L'Avis, barca, scuola, premiate tre ragazze. Agli altri gruppi consegnati gadget dell'associazione coinvolti gli studenti delle classi seconde. E quindi continua l'opera di promozione degli avvissini per le donazioni di sangue. A Bemus Guinza riparte la Fanno Grosseto. Quante volte si è detto che siamo sul punto di ripartire? Questa volta, questa volta sembra che siamo sul punto buono dalla parte giusta. Perché? Perché il Consiglio della ANAS ha approvato il progetto. E ha approvato il progetto con quattro corsie. E quindi già questo è un punto importante, un punto fermo in quel lunghissimo iter burocratico che ha caratterizzato l'esecuzione di questi lavori. Accolta la proposta della Regione che prevede le quattro corsie. Ok, al progetto paccapelo. Si sblocca le cantiere del traforo. Il Consiglio dell'amministrazione dell'ANAS approva il progetto per l'adeguamento. Ora poi deve seguire l'appalto dei lavori, l'esecuzione dei lavori. E chissà se chi ha una certa età oggi vedrà la fine di questa opera. Intanto a Urbino passa la riqualificazione della data. Cioppi partiremo a settembre. L'assessore al turismo dice potremo ospitare laboratori, esposizioni e attività di aggregazione. La Giunta Comunale di Urbino ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per completare il recupero, il restauro e la riqualificazione funzionale della data. Questi grandi locali che un tempo fungevano da scuderie di Palazzo Ducale. Ebbene ci sarà una grande possibilità di aggregazione sociale, di valorizzazione a livello anche nazionale e internazionale delle reti territoriali legate al rinascimento e alla cultura delle Marche. sarà un ambiente che potrà fungere da legame e da ponte anche tra le diverse culture, sempre nel quadro del rinascimento. Vediamo un articolo che riguarda Fossombrone, un articolo di sport. Fossombrone è felice. Fossombrone in questi giorni è stato sempre alla ribalta sulla cresta dell'onda per tutte le iniziative che ha organizzato di carattere turistico, di carattere promozionale, ma soprattutto anche a livello sportivo, perché quando la squadra di una località sale di categoria, ebbene c'è una generale esultanza di tutta la città. Tutta Fossombrone balla al ritmo della promozione. Tre giorni di festeggiamenti per il trionfo che è valso l'ascesa in serie D. Tavolate, band e musica per celebrare un evento che ha nobilitato la città. Ebbene, anche lo sport contribuisce a elevare la qualità offerta dei servizi cittadini, perché poi quando una squadra gioca con altre più blasonate e gira un po' in tutta Italia, fa anche promozione per quanto riguarda la città. Recuperare antichi casali per valorizzare il territorio è quello che si sta facendo a Cagli. Dino Latini, che è capogruppo dell'Udc Popolari Marche in Consiglio regionale, ha illustrato una proposta di legge per il patrimonio edilizio dismesso. Bisogna recuperare questi antichi casali, che sono una fonte storica, che sono anche una fonte della storia dell'edilizia agricola, per così valorizzare il territorio. E poi a Cagli abbiamo invece un evento, un evento storico-culturale, che ricorda uno degli eventi più celibri in provincia, ovvero quello della Battaglia di Paravento. Domenica a Paravento di Cagli è in programma la tredicesima edizione di questo evento storico-culturale, che insieme a quello di Vilano, la frazione del comune di Cantiano, e dell'Alpe della Luna, nel comune di Borgo Pace, è uno dei fatti più significativi e importanti della resistenza nel territorio provinciale. Abbiamo così esaurito l'esame del resto del Carlino, ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico apre con qualche dichiarazione sulle primarie lanciate da Samuele Mascarini. Primarie, 300 firme in due giorni, è quanto hanno raccolto appunto i propositori di questa iniziativa per individuare i candidati e soprattutto le alleanze del centro-sinistra. Ma azione antepone delle condizioni. Azione è il partito in cui milita Stefano Marchigiani, che a suo tempo partecipò nel 2014 alle primarie, insieme allo stesso Samuele Mascarini e al sindaco Massimo Seri, che poi fu il più avvotato. 4.000 quella volta furono i cittadini che parteciparono a questa consultazione elettorale. 2.000 voti li prese il sindaco, 1.000 a testa, Marchigiani e Mascarini. Le primarie, beh, molti tacciono, molti cercano di svicolare a questa domanda. Vuol dire, insomma, che la cosa ancora non è molto condivisa. Il sindaco convoca una maggioranza di distensione dopo la crisi sfiorata su Gimarra. Nicolelli apre al fronte a sinistra. Per Marchigiani invece occorre fare chiarezza su alcuni tempi cruciali, perché, come abbiamo visto prima, è inutile fare le primarie su un centro-sinistra diviso, che contrasta all'interno della coalizione, che poi magari questi contrasti emergerebbero, diciamo meglio, ancora di più in occasione di una campagna politica all'interno del centro-sinistra. Domani c'è un sit-in per spingere l'esecuzione del progetto delle Terme di Carignano. Delle Terme di Carignano è calato il silenzio dopo la presentazione del progetto che è avvenuto nel cinema Masetti di Fano, dove è intervenuta l'amministrazione comunale, dove è intervenuto anche l'avvocato Maurizio Natali, che rappresenta il gruppo romani proprietario e propositore del progetto delle Terme, non si sa più nulla. E per sapere qualcosa, i cittadini poi hanno diritto di sapere, perché insomma le Terme sono veramente una struttura funzionale molto importante, si diceva che fossero il volano dell'economia affanese e quindi devono giungere al più presto alla fase esecutiva. E per spingere a questo, per sapere qualcosa, l'Udc domani alle ore 10, davanti al vecchio stabilimento delle Terme, organizzerà un sit-in per spingere la proprietà a mostrarsi, a chiarire a che punto siamo giunti nell'iter burocratico e quindi a saperne di più su questo progetto. Nella seconda pagina di Fano del Corriere Adriatico abbiamo una denuncia dei residenti di Rosciano e di Bellocchi per quanto riguarda il loro cimitero. Cimitero avanza il degrado, mancano anche i loculi. Non solo le strutture del cimitero, i padiglioni sono fattiscenti, casca l'intonaco, alcuni reparti diventano inagibili quando piove, l'interrato si è allagato durante gli ultimi temporali, tombe scrostate, insomma veramente la situazione non è certo delle migliori. Ci sono i cittadini che soprattutto rimproverano la Giunta perché al momento sono costretti a seppellire i loro defunti in altri cimiteri e avere un cimitero vicino alla propria frazione, un luogo dove si coltiva la memoria, dove si depongono i propri defunti. Nei secoli vorrei dire, perché poi queste sono strutture che consolidano l'appartenenza di una famiglia, di una comunità alla terra in cui la comunità è radicata, ebbene costituisce una struttura che va al di là dell'aspetto funzionale ed assume un valore etico molto importante. Cimitero avanza il degrado e mancano anche i loculi. Un residente mostra l'abbandono della struttura di Bellocchi e di Rosciano. Addirittura c'era una scala che conduceva al piano interrato che era resa inagibile, c'era un nastro che ne impediva il passaggio, ma la gente, pressata dalla voglia di andare a prestare un minimo di cura alla tomba dei loro cari, andava giù lo stesso e magari correva il rischio di scivolare perché poi sotto c'era la melma, il fango e via dicendo. Passiamo ad un altro argomento. E vediamo come il Corriere si occupa di un viaggio che una delegazione di Aset insieme all'amministrazione comunale ha compiuto in Turchia. Discarica la gestione Aset fa scuola in Turchia. Un viaggio a Istanbul di Seri e di Reginelli per la cooperazione tra diversi paesi. E sono diversi questi viaggi che si stanno facendo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Fano ha da insegnare molto anche ad altri paesi. Piccoli cooperatori crescono dai ragazzi progetti creativi. Ebbene, quello della cooperazione, crescere nella cooperazione, è un progetto storico perseguito dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano che ogni anno coinvolge molte scuole le quali sono invitate a realizzare delle piccole cooperative per poi porsi sul mercato. E quelle che sono state realizzate quest'anno sono veramente curiose. Vi invito a leggere questo articolo per vedere la fantasia dei ragazzi. A Pergola si ospita il maestro dei cortometraggi Simone Massi, omaggio al suo cineasta alle 21 in piazza della stazione, la presentazione del regista e dei suoi lavori. Siamo giunti in conclusione. Vi rimane solo uno piccolo spazio di tempo per rilevare questo articolo di cronaca. Prendono fuoco i vestiti dentro la lavatrice. È accaduto a Marotta incendio in una lavanderia l'allarme lanciato da un turista. E questo per il momento è tutto. Io, come al solito, vi do appuntamento al Tg e occhio alla notizia di questa sera alle ore 20.30 e per la nuova rassegna stampa domani alle ore 7.00. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per la visione.